È una Pesaro immersa in una distopica dimensione parallela, quella che sta costruendo Mr. Hope, short film diretto dal giovane regista pesarese Tommaso D'Andrea e prodotto da LG Studios e Mirko Bannini. Nei giorni scorsi si è girato il primo Chuck nel set di Della Chiara Workspaces, una delle location d'ambientazione assieme agli spazi di Villa Meuccia Severi, Baia Flaminia, zona industriale di Via Toscana e Schnell di Colli al Metauro. Le sensazioni sono molto positive perché, come dicevamo, gli attori si sono rivelati all'altezza, c'è molta coesione anche con i ragazzi della troupe, tra il direttore della fotografia, operatori, c'è una grande sintonia, si scherza, si ride e quando dobbiamo arrivare a girare la scena sul set sono tutti molto preparati e tutti molto seri. Si è installato anche un bel rapporto di amicizia e quindi non la vediamo proprio come un rapporto lavorativo, ma quasi come amici. Il personaggio di Samantha è un personaggio forte, io la vedo come l'eroina del suo tempo, vive in questo sistema che a lei non piace e quindi con grande coraggio e con grande determinazione vuole cercare la verità, vuole cercare la propria verità perché appunto la menzogna, la bugia, l'illusione sono temi che insomma non le piacciono e quindi Samantha spero che possa essere un personaggio che possa fare in modo che le persone si possano riconoscere in lei in qualche modo e quindi che anche il pubblico che la guarda, che l'ascolta, possa empatizzare con lei e magari trovare il coraggio di fare una piccola azione nel quotidiano ed essere più coraggiosi magari per se stessi e per gli altri. Jennifer rappresenta proprio la persona media presente nel sistema, quella che non si fa troppe domande, quella che alleggerisce sempre, un po' forse per paura, fa orecchie da mercante perché magari ha paura di scoprire troppo, la intimorisce un'eventuale scoperta oppure semplicemente perché certe cose non le vede, non si pone minimamente il problema. Il progetto Mr. Hope per me almeno significa riuscire finalmente a portare in scena il genere di Spotico, il 1984 di Orwell che per me è il mio libro preferito in assoluto e quindi è un piccolo sogno che insomma riesco a portarmi a casa. Tommy, il personaggio che interpreto, è il compagno di Samantha, la protagonista, è il capo dei militari che è completamente fedele al sistema, cosa che Samantha invece come si scopre da subito è completamente dubbiosa, cerca la verità a tutti i costi, invece io sono molto molto attaccato a quello che viene professato da Mr. Hope. Ho questo bivio, insomma questa ardua scelta tra Samantha e Mr. Hope da fare.